Cittadini di Real Cisa, la universale cinematografica di Roma invita a partecipare alla grande selezione Volti nuovi per il cinema, New Face World Cinema, uomini, donne, vecchi, bambini, ragazzini, il successo vi aspetta! Con una semplice prova di recitazione i nostri produttori vi offriranno una carriera sicura! Ma lo sapete fino a quanto può guadagnare un attore del cinema? Lo sapete? Cento milioni l'anno! Chi vi parla è Joe Morelle, scopritore di talenti in Italia e in Ameme. Fosco Giacchetti, Anna Maria Pietrangi, Lex Baxter. Non faccio per vantarmi ma l'ho scoperti io. Se non era per me stavano ancora a pulire per terra. A Meteo Nazari lo conoscete? Si chiama Angelo Buffa. Viene dalla Sardegna. E chi l'ha detto? Che un sardico può essere un dio tercina ma è un siciliano no. Amici di Reazzisa, oggi voi siete dei sconosciuti, ma domani le vostre belle facce siciliane faranno più grande il cinema italiano e internazionale. Per la simbolica somma di 1500 lire, solo rimborso spese, pellicole e attrazzatura, il vostro provino cinematografico sonoro sarà visionato dai migliori registi della capitale. Cambiate il vostro destino, un miracolo vi aspetta, aiutate la vostra fortuna partecipando alla grande selezione di due nove stelle per il cinema. Io, se mi facevate graziosa, ci provavo subito. Santina forse ci potesse fare la prova. Santina, c'ho paura dell'ombra sua. Poi non sapete leggere i miei scritti. Milioni, milioni e milioni e milioni. Niente di me ha uccisa, con una semplice prova di recitazione, i nostri produttori della capitale... Per prendere bene la luce bisogna scurire le guance, così. Se no sembrano gonfie, sembra che ci ammarda i denti. Mettiamo che fanno un film in Sicilia. Hanno già la tua faccia e ti prendono magari per una piccola parte. Ti guadagni 100, 200, anche 350. Adesso proviamo la recitazione. Ma lei l'ha mai visto via col vento? Sì. Mo' io imparo la battuta finale di via col vento, la battuta è... Dopotutto domani un altro giorno. Questa è vocazione, signora. La ragazza è brava, funziona. Lo sapevo pure io. Prego, dentro. Perché se la porta sola là dentro? Perché ora giriamo, signora. E quando si gira bisogna stare in silenzio e concentrati. Signora, non mi rovini il trucco. Prego. E chi vuole tentare la fortuna, impara a memoria queste tue battute di via col vento. Quella azzurra è per l'uomo, quella rosa è per la donna. Va bene? Giove Morelli è qui per voi. A disposizione.